091 96 11 08 Mafia, nuovo colpo al clan dei Messina Denaro, confiscati beni alla sorella e al cognato. Ripreso stamattina all'Ala Bunker del Lucciardone di Palermo il processo per la trattativa Stato-Mafia. Al via da domani la non edizione della mostra di Piam Terrare ed Inusuali. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di giovedì 25 settembre. In apertura ci occupiamo di Mafia, nuovo colpo al clan dei Messina Denaro. La D ha confiscato beni appartenenti alla sorella e al cognato del super latitante. Vediamo. Beni per un valore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia alla sorella del boss latitante Matteo Messina Denaro, Anna Patrizia di 44 anni, e al marito Vincenzo Panicola, anche lui di 44 anni, entrambi detenuti per associazione mafiosa. Il provvedimento riguarda beni aziendali e di capitali sociali delle ditte VFG Service, VFG Impianti e Soropa Costruzioni, nonché il compendio aziendale di un'azienda olivicola intestata alla sorella del capo mafia, oltre ad alcuni rapporti bancari. Attraverso la VFG Panicola prestava la sua attività di pulizia all'interno del centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, appartenente al gruppo dell'imprenditore Giuseppe Grigoli, condannato per concorsi in associazione mafiosa, e ritenuto prestanome del boss Matteo Messina Denaro. Vincenzo Panicola, figlio del defunto patriarca mafioso Vito, è detenuto perché ritenuto responsabile insieme ad altri da col cognato Matteo Messina Denaro, Filippo Guttadauro, Leonardo Bonafede e Franco Luppino, di associazione mafiosa, quali componenti del mandamento mafioso di Castelvetrano. Anna Patrizia Messina Denaro, ritenuta in contatto con il fratello latitante, per conto del quale smistava i suoi ordini, è stata arrestata dalla DIA nel dicembre scorso, nel corso dell'operazione Eden, con l'accusa di estersione aggravata dal favoreggiamento di Cosa Nostra. Verrà riaperto oggi, alla presenza del Ministro dell'Interno Alfano, l'ipermercato alimentare presso il centro commerciale Beli Città di Castelvetrano, interamente confiscato a Giuseppe Grigoli. La riapertura dell'ipermercato prevede il ricollocamento dei primi 40 dipendenti. È ripreso stamattina all'aula bunker del Lucciardone di Palermo il processo per la trattativa tra Stato e mafia. In aula deporre anche Ciriaco De Mita, ex premier di C. Vediamo. È ripreso stamattina all'aula bunker del Lucciardone di Palermo, dopo la pausa estiva il processo per la trattativa Stato-mafia. C'è grande attesa per la decisione dei giudici sulla deposizione del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, citato come test dai PM. Presente a deporre oggi anche Ciriaco De Mita, ex premier di C e attuale sindaco di Nusco. Non ho mai saputo nulla della trattativa tra Stato e mafia, l'ho ripetuto più volte ai magistrati, ha detto arrivando all'aula bunker. I rapporti sia politici che amichevoli con Nicola Mancino si sono interrotti nel 2008, quando, per divergenze, io mi candidai con l'UDC, ha aggiunto De Mita, durante la deposizione e ripercorrendo la sua storia politica nella DC. Falcone, il 15 marzo del 1992, mi disse preparatevi perché la mafia, dopo la conferma delle condanne del maxiprocesso, deve organizzarsi ed eleverà il livello di scontro con lo Stato. Gli chiesi perché queste cose non le scriveva e lui aggiunse perché queste cose per ora non passano. Dialogo con tutti e non mi dimetterò mai. Lo ha detto ieri il presidente della regione Rosario Crocetta, chiamato dai deputati a riferire in merito alla situazione politica del suo governo e della maggioranza. Più che una seduta parlamentare, quella di ieri a Saladercole, è sembrata una maratona infinita. Il governatore Rosario Crocetta, chiamato dai deputati a riferire sulla situazione politica del suo governo e sulla sua maggioranza, dopo il flop del click day e le dimissioni dell'assessore Maria Rita Sgarlata, ha cominciato il suo discorso sottolineando la grave crisi della Sicilia, di cui secondo lui non si possono accusare gli ultimi governi. La crisi economica è dovuta, a suo dire, alle difficoltà nell'export dei prodotti agricoli e petroliferi siciliani. Sul fronte degli sprechi è detto di aver fatto molto, anche insieme al Parlamento, ma c'è comunque un problema di eccessiva conflittualità tra le forze politiche e il governo. Crocetta ha elencato quindi le cose fatte. Ho ridotto i costi della formazione, da 450 milioni siamo scesi ad appena 150, ho risparmiato oltre 300 milioni e sul fronte degli appalti, nelle Aspa abbiamo fermato gare milionarie. Crocetta, insomma, ha parlato di tutto e di più, ma una cosa è certa, le tanto decantate larghe intese non ci sono e anzi, il dibattito di ieri sembra avere definitivamente segnato il collasso della maggioranza. Si andrà avanti, comunque voglio governare come un santo, ha detto Crocetta, e non mi dimetterò mai. E sull'intervento in aula del presidente Crocetta interviene l'onorevole Giussi Savarino di Amuni Sicilia, l'Associazione dei Moderati Uniti. Il suo fallimento, dice, è eclatante. Va mandato a casa o lo fa il Parlamento o mettano gli elettori nelle condizioni di poterlo revocare, così come lo hanno eletto con una mozione di sfiducia popolare che faccia capire a Crocetta che è il presidente più odiato della storia siciliana. È morto il vigile del fuoco che ieri pomeriggio era rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento dell'autobotte su cui viaggiava insieme ad un collega. Vincenzo Lima, 39 anni, in servizio a Catania dal 2008, era originario di Trabbia. Lascia la moglie ed una figlia piccola di due anni. L'incidente è avvenuto sulla tangenziale di Catania, all'altezza dello svincolo per Librino. Oltre alla vertenza del rinnovo del contratto della pubblica amministrazione, in campo anche quello dei bancari. Ieri un incontro tra i sindacati dei lavoratori e l'ABI. Ascoltiamo allora Maurizio Arena, segretario generale di Ircredito. Proprio ieri c'è stato l'ultimo degli incontri con ABI, che è la nostra controparte, per il rinnovo del contratto che è scaduto a giugno. Da parte nostra c'è stata una proposta che è passata per le assemblee dei lavoratori, che è molto con i piedi per terra, perché questa situazione complessiva del Paese e delle banche non ci consente di poter avanzare delle pretese o delle richieste, come dire, in qualche modo non correlate con i tempi. Noi quello che chiediamo alle banche, oltre al rinnovo del contratto dei bancari, chiediamo di essere più vicini ai cittadini. Progressivamente la distanza tra le aziende di credito, tra le banche e il tessuto, sia della piccola e media impresa, sia proprio familiare, si è divaricato. Vogliamo che la banca ritorni a essere vicina al territorio, vicina al cittadino, e dal nostro punto di vista il lavoratore bancario deve essere l'anello di trasmissione di questo tipo di contatto, altrimenti questo è un problema che non riguarda solo i bancari e le banche, ma riguarda l'intero Paese. E pensate di riuscire ad ottenere quello che chiedete? Allora, intanto quello che vogliamo ottenere non è un incremento di carattere economico, l'unico incremento che vorremmo ottenere è quello che deriva dall'inflazione, per cui vogliamo mantenere un potere d'acquisto. Siamo disposti anche, già lo abbiamo fatto, a sacrificare qualcosa per questo, soprattutto in funzione del fatto che vorremmo mantenere, anzi vorremmo incentivare, l'occupazione. Noi già con lo stesso contratto abbiamo fatto in modo che i nuovi assunti in banca, per favorire proprio da parte delle aziende di credito la possibilità di assunzione, avessero per una fase di quattro anni una retribuzione del 20% più bassa del livello di ingresso che c'era precedentemente. E oggi a Palermo si inaugura la nuova sede del sindacato dircredito. Ascoltiamo il segretario regionale, Francesco Navarra. La nostra nuova sede è il segnale di un avvicinamento del dircredito verso quelle che sono le tematiche del settore bancario e quindi logisticamente è una possibilità di contatto più proficuo e una vicinanza più effettiva dalla segreteria verso i nostri iscritti e il mondo bancario in genere. Come succede in altri campi? Anche in questo c'è differenza fra la Sicilia e le altre parti d'Italia? Cioè stiamo peggio rispetto ad altri? In effetti stare peggio non proprio direi, le tematiche sono le stesse su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo una differenziazione che riguarda il territorio stesso, c'è l'ubicazione, e quindi anche il mondo stesso di rappresentatività nostra è più soggetto a un maggior dispendio di energie per la rappresentatività appunto. Per quanto riguarda le problematiche, credo che ormai siamo a livello nazionale, non possiamo parlare solo di territorio regionale, perché le tematiche post in abbi vengono rappresentate dai nostri segretari nazionali, ma che riguardano tutti. Non ci sono rosse differenziazioni tra il bancario del Piemonte o della Lombardia piuttosto che della Sicilia, se non fosse soltanto per la differenza di ubicazione delle filiali. Disaggia all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Due voli sono stati dirottati a Catania. Si tratta del Pantelleria-Palermo delle ore 9.50 e del volo Londra-Gatwick-Palermo delle 10.15, mentre i voli Roma-Fiumicino-Palermo delle 9.45 e Santorini-Palermo delle 10.20 sono stati dirottati a Trapani. Lo rende noto la GESAP. Al via domani e fino al 28 settembre la nona edizione della mostra di piante rare ed inusuali, la Zagara, che si svolgerà all'Orto Botanico di Palermo. 70 espositori e bivaisti giungeranno nel capoluogo siciliano con i loro prodotti e per la prima volta in Italia ci saranno le orchidee dell'Equador e la collezione di piante carnivore. Ascoltiamo l'organizzatore Carmelo Sardegna. L'iniziativa nasce per dare un contributo alla produzione ai nostri vivaisti, che sono generalmente abbandonati a se stessi. Poi nasce perché l'Orto Botanico merita questo grande omaggio di tutta la natura e della biodiversità. Nasce perché il professor Raimondo, uomo intelligente e illuminato, crede nel cambiamento e nel miglioramento. E poi perché i palermitani amano il bello. Non è vero che i palermitani sono mafiosi, i palermitani amano il bello, bisogna dargli il bello. Allora vuol dire che tutto viene rispettato. Tra il bello di quest'anno ci saranno delle orchidee meravigliose e addirittura delle piante carnivore. Esatto. Dunque, le orchidee erano anni che aspettavamo un'altra tipologia di orchidee, anche se le orchidee del Lago Maggiore, con i nostri callini, meraviglioso, strepitoso, sono poi quelle che vanno via prima. Quest'anno, grazie a lui, avremo delle orchidee del Sud America e delle orchidee dell'Ecodoro in particolare. Poi è una prima volta nella nostra storia una collezione di piante carnivore. E noi parleremo in orto botanico sabato sia di orchidee, come si coltivano finalmente, abbiamo Amaola, l'Associazione Nazionale degli Amanti delle Orchidee, e poi parleremo anche di piante carnivore, queste sconosciute. E Dulcis in fundo avremo Sarà Benzadì, che è una grande coreografa, musicista, danzatrice, che farà esibire la sua Accademia di Danze Orientali Internazionali dal titolo Le Danze nei Giardini Arabi. Lo stadio Renzo Barbera passa al Palermo Calcio. Il comune, infatti, intende concederlo a Zamparini, affidandogli in cambio l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Vediamo. Il comune di Palermo ha concesso gratuitamente lo stadio Renzo Barbera al Palermo Calcio. Per la società di Maurizio Zamparini significa un risparmio di 315.000 euro annuali. La concessione era già stata sollecitata al comune dalla società di Viale del Fante, al quale spetteranno le procedure di manutenzione del peso. Tra queste, l'eliminazione dei bagni alla turca, vietati dalla federazione gioco calcio. In ogni caso, i lavori saranno supervisionati dal comune, che inoltre ha riservato per sé l'utilizzo della struttura per 18 giorni all'anno. Ovviamente, nei giorni in cui non si disputerà alcuna partita. Una scelta, quella di concedere gratuitamente lo stadio alla società Rosa Nero, che non c'entra nulla con la generosità. In realtà, la manutenzione ha dei costi molto alti e in questo modo l'amministrazione comunale, rinunciando ai proventi dell'affitto, ha però creato un risparmio per le classi dell'ente che non dovranno sopportare il peso sia dei lavori interni allo stadio. Rimarranno a carico dell'ente invece le manutenzioni delle aree vandalizzate fuori uso della palestra Borgo Nuovo, dello stadio del baseball e del palazzo dello sport, nonché dei plessi abbandonati di Bonagia per rendementi incompleti e del velodromo. Il 26, 27 e 28 settembre si svolgerà per iniziativa di Lega Ambiente Puliamo il Mondo, iniziativa italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Il comune di Bagheria organizza una manifestazione parallela per pulire la città e dare il buon esempio. Il sindaco Patrizio Cinque ha lanciato l'iniziativa su Facebook dal titolo Puliamo Bagheria. Tutti coloro che parteciperanno potranno indicare una zona, un quartiere, una strada da ripulire e le zone che avranno ricevuto il maggior numero di segnalazioni verranno pulite dai volontari che aderiranno all'iniziativa. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie.